Marco Rondini, deputato della Lega Nord. Oggi in aula alla Camera dei Deputati si parla di femminicidio e in generale dei reati contro le donne. La Lega Nord che cosa chiede in merito a questa situazione? La Lega Nord intanto diciamo che l'approvazione e la discussione di queste emozioni contro la violenza sulle donne fa seguito al processo di ratifica della Convenzione di Istanbul sullo stesso tema. La Lega Nord in particolare chiede la certezza della pena e cioè per essere più chiari impedire che chi magari è stato condannato per un reato grave di violenza che spesso si compie fra le mura domestiche possa accedere a pene alternative e scontare magari la pena ai domiciliari. Noi riteniamo che questo reato vada scontato, la pena per questo reato vada scontata completamente in carcere. Ci faccia un esempio? Beh, se pensiamo ai vari decreti svuota carceri abbiamo idea di come la maggior parte dei rappresentanti delle altre forze parlamentari con il governo Monti ed oggi cercano di disinnescare quella certezza della pena che invece noi chiediamo fortemente, questo in primis. Poi noi chiediamo anche che ad esempio quando si parla di violenza sulle donne si adottino tutte quelle misure affinché le normative vigenti oggi trattino il reato di mutilazione genitale femminile come un reato e non succeda quello che succede ogni tanto e cioè che magari vengano come è successo a seguito di una sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione a Venezia che i due genitori accusati e incriminati per questo tipo di reato poi venissero assolti da una sentenza del magistrato. Quindi noi chiediamo che queste norme diventino più stringenti perché se si parla di violenza sulle donne anche la mutilazione genitale femminile rientra in questa casistica. Di più riteniamo ancora che quando si parla di violenza sulle donne anche l'imposizione attraverso la minaccia dell'utilizzo del velo è a tutti gli effetti una violenza che va a mutilare in qualche modo la dignità della donna.